In questa video-lezione mi occuperò delle quattro operazioni. L'operazione, die operazion. Possiamo anche dire, die Rechnungsart. Ripetete dopo di me. L'operazione, die operazion. Al plurale, le operazioni, die operazion. Ripetete dopo di me. Le operazioni, die operazion. Le quattro operazioni, die fia operazion. Ripetete dopo di me. L'addizione, die addizione. Ripetete dopo di me. Die addizione. Addizione. 3 plus 4 is gleich 7. Summant. Summe. 3 più 4 3 plus 4 è uguale a 7 ist gleich 7 più plus è uguale ist gleich Ripetete dopo di me. 3 più 4 è uguale a 7 3 plus 4 è uguale a 15 10 plus 5 è uguale a 15 10 plus 5 Ripetete dopo di me. 10 plus 5 è uguale a 15 9 più 11 è uguale a 20 9 plus 11 ist gleich 20 Ripetete dopo di me. 9 plus 11 9 plus 11 ist gleich 20 La sottrazione. Die subtrazione. Ripetete dopo di me. Die subtrazione. 7 meno 4 è uguale a 3 7 minus 4 ist gleich 3 Ripetete dopo di me. 7 minus 4 ist gleich 3 16 meno 7 è uguale a 9 16 minus 7 ist gleich 9 Ripetete dopo di me. 16 minus 7 ist gleich 9 6 meno 4 è uguale a 2 6 minus 4 ist gleich 2 Per in tedesco si traduce con mal che è un avverbio e significa a volte una volta quindi se devo dire 4 per 3 è come se io dicessi 4 volte 3 4 volte 3 è uguale a 12 4 volte 3 4 volte 3 è uguale a 12 4 volte 3 4 volte 3 è uguale a 12 5 mal 2 5 mal 2 ist gleich 10 5 mal 2 3 volte 6 è uguale a 18 3 mal 6 ist gleich 18 6 mal 2 La divisione Die divisione In tedesco diviso viene tradotto dalla parola durch questa parola sia una preposizione che un aggettivo e significa attraverso per durante fuori da oppure passato penetrato quindi se voglio dire 15 diviso 5 in tedesco dirò 15 fuori da 5 15 15 5 15 fuori da 5 è uguale a 3 15 12 5 ist gleich 3 ripeto 15 diviso 5 15 fuori da 5 15 durch 5 è uguale a 3 ist gleich 3 27 diviso 3 27 diviso 3 durch 3 è uguale a 9 ist gleich 9 27 diviso 3 è uguale a 9 27 27 durch 3 ist gleich 9 30 diviso 5 è uguale a 6 30 durch 5 ist gleich 6 6 6 6 7 7 8 9 10 9 11